questo punto della riviera qui nella Liguria è uno dei posti più secondo me più belli ogni volta che passo di qua mi si allarga il cuore perché vorrei fermarmi e fare un sacco di foto e rifilmati però ci passa sempre così di sfuggita è stupendo guardate un po' un'altra meschetta considerando che siamo a metà febbraio non c'è male sono proprio contento di vivere qua in Liguria sarà una frase banale ma almeno qua ci posso venire anche volendo tutti i giorni Grazie a tutti